Se qualcuno mi chiedesse come lo percepisci? Un depresso secondo me è un laico posseduto, cioè posseduto da una mente di propria generazione, autogenerantesi e autoalimentantesi, che gli impedisce di entrare nel senso reale della vita. Capite? Quindi il denominatore comune è una frase molto semplice. I depressi non riescono a meditare. Non ho mai incontrato un depresso che abbia in qualche modo ammesso di essere riuscito qualche volta ad annientare il pensiero.